Ciao a tutti, io sono Maria Desiria Stenta e ho 22 anni. Sono un'attivista del Movimento 5 Stelle e mi calderò alle prossime lezioni per un semplice motivo, perché la mia idea è quella di avere una forma migliore, una forma dove i cittadini sono orgogliosi di quello che hanno davanti. Per il mio quartiere invece l'idea è quella di riqualificare questo parco, ovvero il parco San Giulio, quello di fronte alle scuole. Il mio ricordo di questo parco è molto emozionante, perché ricordo che quando ero piccolo, scendo da scuola, ci venivo a giocare con i miei compagni. Invece adesso i bambini non possono più venirci a giocare, perché sull'erba si trovano solamente escrementi di animali e i cani e i gatti vengono qui con i loro padroni a fare i loro bisogni. Quindi noi riqualificheremo questo parco e vi daremo una forma migliore.